Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da PAM. Questa volta non parliamo di discount ma di un supermercato, diciamo tradizionale, comunque non un discount, che è la PAM. Sono andata lì a fare la spesa perché mi servivano delle cose che di solito trovo più facilmente da PAM. In particolare cercavo questi gelati Valsoia che sono dei mini stecchi, quindi tipo cremini, con il cocco. Io questi li trovo solo da PAM, almeno per quello che riguarda la mia zona, la mia città. Io non riesco a trovarli in altri supermercati e siccome da PAM li trovo, io avevo voglia di mangiare questi gelati e sono andata apposta per comprare questi. Lo so che siamo ormai fuori stagione per il gelato, ma per me il gelato è un dolce sempre, sempre, sempre verde. Nel senso che io estate, inverno, autunno, primavera, comunque il gelato lo mangio. Ovvio non tutti i giorni perché poi d'inverno fa freddo, quindi magari viene meno voglia di gelato. Però è comunque un dolce che a me piace anche in inverno, quindi ogni tanto me lo compro. E in particolare, come vi dicevo, cercavo questi. Un'altra cosa che sono andata a prendere appositamente da PAM, perché non la trovo in altri supermercati, sono queste orecchiette fresche, però integrali. Diciamo che le orecchiette, sia fresche che secche, le trovo abbastanza facilmente da tutte le parti, però quelle integrali fresche, io per il momento le trovo solo da PAM, quindi sono andata anche per questo. Questa è della marca Tesori, sono veramente buonissime, sono proprio le classiche orecchiette fresche pugliesi, ma con quel tocco in più di integrale. Poi ho preso una confezione di pasta brisè della marca PAM, quindi marca supermercato. Ho preso la pasta brisè perché voglio realizzare una ricetta che poi farò vedere sul canale, quindi non vi anticipo nulla. Poi sono riuscita a trovare ancora le albicocche, quindi ho preso una confezione di albicocche, perché mi sembravano veramente bellissime, quindi ne sono rimaste attratte e le ho comprate. Poi ho preso una confezione di cubetti di prosciutto, eccoli qua, questi. Una confezione di polpette di tacchino, queste qua sono ottime, io le faccio spesso con i piselli, cucinate così in bianco, e sono veramente gustosissime. Una confezione di bracciole di maiale, poi una coppia di hamburger di bovino, delle zucchine verdi però scure, queste qua, a me piacciono anche queste. Ovviamente quelle più chiare sono più adatte per un contorno tipo zucchini con il prezzemolo, o comunque quelle trifolate, però anche queste qua più scure, comunque a me non dispiacciono, quindi ogni tanto le compro. Poi una confezione di svizzere di tacchino, eccole qua, queste mi piacciono tantissimo, proprio veramente tantissimo e sono aromatizzate con il rosmarino. Poi ho preso una confezione di cappuccino Nescafè da zuccherare, devo dire che io lo prendo da zuccherare, perché comunque un pochino di zucchero all'interno c'è comunque, e io non lo trovo così tanto amaro, diciamo, secondo me va bene di zucchero, quindi io lo mangio così, sinceramente lo lascio così com'è, e non aggiungo ulteriore zucchero, anche perché comunque per porzione, ce ne sono quasi 4 grammi, se guardate l'etichetta, quindi alla fine in una porzione di cappuccino, c'è quasi un cucchiaino, e quindi per me è più che sufficiente. Poi ho preso una confezione di cotton fioc, questi qua semplicissimi, nel sacchettino, neanche nella scatolina, proprio questi più economici. Poi ho preso questa confezione di goffre, eccolo qua, questo è un dolce francese, tedesco, belga, lo trovate comunque, forse anche in Olanda, insomma lo trovate in questi paesi. Il nome scritto sulla confezione è Waffle, spero si pronunci in questo modo, però il nome francese è Goffre, e in Francia lo trovate spesso di forma quadrata o rettangolare, però è la stessa cosa. Questo però è aromatizzato leggermente alla vaniglia, quindi volevo provarlo. Questo qua credo che lo mangerò a colazione. Poi come ultima cosa, ho preso due confezioni di guanti, questi, usa e getta, sono 200 guanti, di quelli trasparenti, proprio classici, proprio usa e getta, per fare i lavori di casa, e poi ho preso invece una confezione di guanti per lavare i piatti, spero che siano un pochino più resistenti, perché a me i guanti per i piatti si rompono praticamente un giorno sì, e l'altro pure. Questi dovrebbero essere un po' più resistenti, e li proverò, speriamo bene. Comunque questa è tutta la mia spesa, come vedete non sono tantissime cose, però oggi mi andava di fare il video svuota la spesa. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.